FC Kratica, Coppa Simpatia Coppa Fair Play, FC Piemonte Quarta classificata, Bare Pomeo Terza classificata, Aenaria Team Giocatore più simpatico, Michele Capezza, FC Tabor Gol più bello, Fabrizio Ferrandino, Bare Pomeo Miglior portiere, Pietrucci Paolo Piemonte Premo speciale, Mr. Fair Play, Nello Vespoli, Piemonte Capo Cannoniere, Giorio Cesare, FC Tabor Seconda classificata, Pub Bella Vita Categoria Over 35, Coppa di partecipazione Real Marina Coppa partecipazione Campagnano Coppa Simpatia, Pizzeria Catari Premio ristorante Treats, Coppa Fair Play, 100 euro Quarta classificata, Giardini Ravino Terza classificata, Olanda Star Giocatore più simpatico, Walter Borriello Piemonte Premio speciale, giocatore Fair Play, Romano Enzo, 100 euro Gol più bello, Ballirano Michele, Keramos Miglior portiere, Giovanni D'Ambra, Giardini Ravino Capo Cannoniere, D'Ambra, Giardini Ravino Capo Cannoniere, D'Orio Lunar Flight Seconda classificata, Lunar Flight Premio prima classificata, Over 18, FC Tabor Campioniere, D'Ambra, Giardini Ravino Campionato Over 35, prima classificata, Geramos Campioniere, D'Ambra, Giardini Ravino 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.